Possiamo raccontare le cose che ci fanno piacere e che ricorderemo per sempre, perché era straordinaria, altera, severa, dolce, era una donna completa, poi soprattutto per me era un sonno che era alta, mai, e quindi per me è meravigliosa. Te Maria Laura, sei un pochino come un minuto, cioè praticamente noi tutte facciamo di tutto, noi artista, attrice soprattutto, o noi dello spettacolo, facevamo tutto per apparire, lei faceva di tutto per farsene nell'ombra e cercare di essere sempre più brava, ed è rimasta, ieri, oggi, domani, sempre, siamo d'accordo su questo, Alida Valli e Alida Valli. Sono per te, sono per te, è una rosa da noi presenti, da Gianluigi Gerondi che ha fatto una splendida carellata su tutto, perché mi ha fatto sempre l'interno grande nostro del cinema, e quando si dice grande, direi...